Il Forrester verrà messo di fronte alla verità su quanto accaduto tra Brooke e Deacon, non mancheranno di certo le tensioni. Rottura in arrivo per Brooke e Regin Beautiful, le ultime anticipazioni americane sono scoppiettanti per la coppia, che dovrà affrontare un momento davvero complicato. Lo stilista finalmente viene messo al corrente del tradimento di sua moglie. Come già anticipato, a rivelargli la verità dei fatti ci pensa Taylor, la quale ha delle prove grazie a Steffi e Thomas. Il tutto è accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri in America. Alla casa sulla scogliera, la Ace rivela a Ridge che Brooke l'ha tradito con Ridge. Il Forrester non riesce a credere alle parole della sua ex moglie. Pensa che Taylor abbia torto ed è convinto che Deacon se ne sia andato dopo la festa di Capodanno. Ma la Ace gli ribadisce che in realtà Sharp è tornato a casa di Brooke e crede che abbiano iniziato a bere. Ridge crede che tutto questo sia ridicolo e per difendersi Taylor gli spiega che Douglas ha assistito alla scena. Inizialmente il famoso stilista crede che Steffi e Thomas abbia messo in testa al nipote delle strane idee su quella notte. Pensa che Taylor stia trasformando una storia innocente in qualcosa di grave. Quando capisce di non aver affatto convinto il Forrester, la psicologa ammette di aver visto di contornare a casa di Brooke attraverso le telecamere di sicurezza. È Steffi, con l'aiuto di Charlie, a trovare i video di sorveglianza. La Ace insiste sul fatto che Sharp ha trascorso la notte insieme alla Logan. Ma Ridge non crede affatto che Brooke potrebbe mai tradirlo con Deacon. A questo punto, Taylor gli consiglia di andare a parlarne con sua moglie e non trattiene le lacrime. Piangendo, la donna chiarisce che non ha alcuna intenzione di ferirlo, come invece lui crede. E nel frattempo avviene un acceso confronto tra Brooke e Steffi, la quale è pronta a tutto pur di riunire i suoi genitori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.